Ho deciso, voto in groia. Ah, in groia, ma sì, 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 alla fine sì, perché comunque mi sembra una persona che ha le idee chiare, non lo so, è anche un modo per liberarsi, non so, mi sembra una figura di riferimento forte anche per i giovani. Beh, certo, un magistrato, sì che poi è anche un po' il suo punto debole, se vogliamo un magistrato che fa politica. Mi sembra che tra tutti in groia, come persona, sia, voglio dire. No, no, certo, certo, semmai l'unica cosa che si può dire contro in groia è che forse rischia di essere un voto risperso. In che senso? No, nel senso che magari non ha quasi tante possibilità di vincere, ma nemmeno di raggiungere la soglia del 4%. Vabbè? E no, anche in questo momento forse sarebbe meglio dare sostegno a uno dei due partiti più votati, anche per garantire una stabilità maggiore al governo che verrà eletto, no? Cioè? Chi sarebbero questi partiti? Vabbè, PD o PDL. Allora, siamo sempre lì, ritorniamo ancora, rimaniamo nel vecchio sistema della politica, non usciremo mai. Lo so, ma allora tanto vale parlare di bipolarismo, no? Cioè, torniamo al frazionamento della prima repubblica, dove i governi stavano in carica 6-7 mesi, non si faceva niente, c'è anche la legge elettorale che c'è purtroppo. Sì, no? Eh, siamo tutti d'accordo, siamo d'accordo che il Porcellum è una legge elettorale schifosa, però quella c'è, quindi non possiamo. No, 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 certo. Siamo in Europa, no? Dobbiamo dare un segnale forte di coesione. No, sì, quello sì, quello è giusto, giusto. Eh, quindi? Quindi? Eh, quindi? 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 Senti, guarda, ci ho riflettuto. Tutto sommato penso che votare PD alla fine sia la scelta più saggia. Ah, PD? Sì, quindi Bersani. Vabbè, perché c'è qualcosa contro Bersani? No, no. Bersani è un uomo politico di esperienza, ha le sue idee e ha la guida di un partito forte che, come dicevi giustamente tu, è giusto sostenere per cercare di dare una stabilità al paese, no? Forse una figura più giovane sarebbe stata... Sì, vabbè, ma non so, tipo, se avesse vinto Renzi. Ok, sì, anche se tutto sommato il punto è che non è il leader, non è solo il leader, sono le idee, sono i programmi anche, no? Che contano. Eh, no, quello sì, punto, giusto. Tipo? Tipo che? Tipo cosa ti piace del programma? Le proposte? Le proposte? Eh, le proposte. Eh, le proposte... Le proposte... Intanto hanno detto no al condono, anche alla restituzione dell'Imu e... Ok, e questo è quello che non vogliono, no? Ma tipo proposte propositive. In che senso? Propositive, cioè nel senso di fare, no? Qualcosa. Va bene, non fare alcune cose, però poi loro vogliono fare... Ah, sì, ho capito, no? Cose che vogliono fare, cioè... Che vogliono fare... Del fare... Del fare... A sto giro voto Berlusconi. Berlusconi? Berlusconi, sì. Berlusconi, Berlusconi. Ma scusa? Senti, Berlusconi premier, punto. A parte che non è candidato premier. Come non è candidato premier? Non è candidato premier, la Lega ha posto come condizione che non faccia il premier. E cosa fa? È il ministro dell'economia, pare. Vabbè, poi decideranno. Comunque io voto Berlusconi. Ma scusa, ma da Bersani a Berlusconi? Vabbè, senti, è l'unico leader carismatico vero. È la persona in gamba, è spiritoso, è... Scusa, ma è tutto il casino, le miliotte, la corruzione, i nicciuci. Ma sì, a parte che sono cose che vanno ancora dimostrate. Poi comunque sappiamo che c'è una bella fetta della magistratura che ce l'ha con lui. Poi comunque vabbè, ma non voglio entrare in discorsi. Ma come non vuoi entrare in discorsi? È l'unico che lancia delle idee, delle proposte. A parte la restituzione dell'Imu che comunque negli anni delle cose ha dimostrato che degli impegni che ha preso, cioè le cose le ha fatte. Ma tipo cosa ha fatto? Ha fatto, ha fatto, ha fatto. Citami delle riforme che ha fatto. La patente a punti, la legge quella sul fumo nei locali pubblici. La riforma del diritto societario. Che sarebbe? Cosa? La riforma del diritto societario, sarebbe? Non lo so, l'ho letta su internet. Vabbè, comunque dai, quasi vent'anni. In che senso? No, dico sono un po' poche. Vabbè, sì, a parte che... Cosa? No. No, vabbè, volevo dire... Vabbè, niente, no, volevo dire... non è stato... Non è stato sempre il governo... Vabbè, insomma, comunque sì, un po' poche forse. Sì, poche. Dai. Berlusconi. Vabbè. Che pensi? Mi sa che alla fine... Alla fine? L'unica sia a votare Monti. Monti? Vabbè, Monti, Monti. A parte, una persona rigorosa, ha ridato una grande credibilità all'Italia e all'Europa. Ma Monti è tartassato i più deboli, poteva fare delle riforme, invece... Ma quello? Ma no, ma quello perché è chiaro, aveva un parlamento che non era il suo, lo teneva sotto scacco continuamente. Dai, no, ma Monti lo sai, no? Chi c'è dietro? A chi? A Monti? Ma sì, Monti è un uomo delle banche, si sa, no? La massoneria, le banche... Stiamo a fare della dietrologia, non andiamo da nessuna parte. Ma no, ma qual è dietrologia? Qual è dietrologia? Dai, poi, insomma, dai. Cosa? Fini e casini, dai. Vabbè... Vabbè, scusa, casini... Cosa? Niente. Dai, ci ho provato, ma... ci sono... Cosa? Oscar Giannino. Oscar Giannino? Oscar Giannino, sì, e non attaccare quella cosa che è un voto risperso, perché tanto non... No, no, vabbè, se lo dici tu... Oscar Giannino è una persona competente, seria, scorporata dalla politica, e poi non lo so, c'ha qualcosa fuori dagli schemi, sembra un po' un pinocchietto, no? Pinocchietto? Pinocchietto. Quindi lì c'è le bugie, ma no, che c'entrano per dire, nel senso, poi comunque è un pinocchietto cresciuto, è un pinocchio cresciuto. Sì. Fare per fermare il declino, non mi piace, non so, vabbè, sì, sì. Ma il programma di Giannino lo conosci? In che senso? Fare per fermare il declino? No, quello è il nome. Ah, pensavo che quello era... No, quello è il nome. Il programma? Vabbè, il programma... Il programma è fare, no? Fare cosa? Fare, cioè, fare... 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 Per fermare il declino. Se ne devono andare tutti a casa. Ho avuto Beppe Grillo. Ah, Grillo. Grillo. Beh, pure Grillo, no? Sì, vabbè, ho capito, padre padrone del movimento, la democrazia interna, intanto diciamoci la verità, è l'unico che guarda al futuro di questo paese, non ha speso un soldo per la campagna elettorale, non è mai andato in televisione e nel giro di pochi anni, solo attraverso la rete, internet, ha costruito un consenso inimmaginabile, guarda i sondaggi, cioè... Ah, infatti sì, quello è Grillo, ma i grillini? Non ho capito. I grillini, quelli che fanno parte del movimento? E chi sono? Eh, appunto, perché parte del problema è proprio quello. Cioè? Eh, c'è chi dice che tanta gente sfrutterà il movimento per entrare in Parlamento e poi farsi largo negli altri partiti vendendosi al migliore offerente. Sono stronzi se fanno così, scusa. Sì, capito, però di fatto potrebbe succedere. Cioè, tu dici che tanta gente userà il movimento come una specie di cavallo di troia. Eh sì, esatto. Cioè, il problema di internet è quello, no? Il cavallo di troia. Hai capito? Eh, ho capito. E quindi? E quindi? E quindi è un cazzo. Sai che ti dico? Io a votare non ci vado. Come non ci vai? Non ci vado. Guarda che votare è un dovere, eh. Aspetta. È un diritto, dovere. Sì, vabbè. Allora vado e voto scheda bianca. Eh certo, vuoi prendere posizione. Allora vaffanculo. Allora vado e dichiaro che rifiuto il voto. Cioè, mi hanno spiegato che si può fare. Cioè? Cioè? E cioè vai e praticamente dai il documento. Poi quando loro ti danno le schede elettorali, tu le rifiuti. Devi far mettere a verbale che rifiuti le schede e che rifiuti il voto. Di modo che così dai una motivazione per cui dici che rifiuti perché magari non credi, non ti senti rappresentato dai... E se ti fanno storie, perché magari qualcuno trovi anche quelli che ti fanno storie, allora devi... Non devi toccare le schede. Devi andare a cercare l'ufficiale di pubblica sicurezza che sta lì nel seggio. Deve essere presente, nel senso lo devi portare dove tu devi... Tu devi dire, allora che... Cioè faccia mettere a verbale che... Aspetta... Ma com'era?